Ho chiesto chiarezza sulla vicenda degli isolatori sismici difettosi dei progetti case, già oggetto di procedimenti giudiziari e sui quali era addirittura intervenuta la Commissione europea, ma non ho avuto risposte. Così il consigliere comunale del gruppo L'Aquila Città Aperta, Giorgio De Matteis, torna all'attacco del sindaco e della sua giunta sulla questione sicurezza dei complessi residenziali realizzati dopo il sisma all'Aquila. Noi abbiamo chiesto in un'ultima riunione di Commissione di Vigilanza di conoscere quali sono i livelli di sicurezza in una condizione paradossale come questa, cioè aver montato su 7.000 isolatori sismici 5.000 non omologati e non omologabili pone sicuramente dei problemi da questo punto di vista e anche l'agibilità delle strutture abitative che sono posizionate al di sopra. Sulla gestione delle 19 New Town dei progetti case, De Matteis risponde deciso. L'amministrazione comunale non è in grado di gestire complessi case e map, ma chi è che dovrebbe recuperare soldi considerati anche milioni di euro demorosi? Ad oggi nessuna gara è stata fatta per la gestione, che rimane una questione scottante per tutti. E cioè non potendo gestire il comune perché oggettivamente non è nelle condizioni di poter gestire l'intero progetto case e naturalmente evitare, ma da quello che stiamo vedendo sarà molto difficile che tutto questo gravi sulle tasche degli aquilani in maniera ulteriore come tassazione, abbiamo proposto la possibilità al momento dello svuotamento di queste unità abitative di poterle, come dire, mettere in affitto concordato con le amministrazioni dello Stato. Quindi che possano essere dalle forze dell'ordine, ai militari, alle strutture dello Stato stesse, all'Ater era una proposta e noi avevamo avanzato già in fase di campagna elettorale.